Il Medio Levante è stato centrale nella mia esperienza da assessore. I lavori portati avanti insieme all'unicipio sono stati molti ed efficaci. Abbiamo puntato sugli spazi di aggregazione come i giardini govi, dove con lo skate park e il calcetto tutti possono divertirsi a due passi dal mare. In piazza Palo Danovi, invece dei posteggi abusivi, ci sono rapposti sicuri dove sedere nel verde. Un modello che abbiamo seguito in tutto il territorio, predisponendo anche attraversamenti sicuri. A San Martino abbiamo riqualificato luoghi come Piazza Remondini, ciò ha tirato fuori l'orgoglio del quartiere, è nato così il Cive dei Comercenti e abbiamo detto no alla grande distribuzione. In piazza Palermo ho inaugurato il portiere di comunità, una vecchia edicola che ora è al servizio delle persone che vivono intorno alla piazza riqualificata. Inoltre abbiamo iniziato e concluderemo la messa in sicurezza del territorio con lo scolmatore per il Feregiano e per il Rio Noce. Il Medio Levante sta cambiando e con noi continuerà a cambiare. Il cuore di Genova per noi in ogni quartiere. Sono il candidato a sindaco per Genova per il centro-sinistra. Se anche tu ami la nostra città, il 25 giugno vota Gianni Crivelli. Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!